Vittoria del Tatarbento per la Castenovese, oggi in vena di regali, il Subbiano ringrazia. Partita dominata dagli Amaranto, ma non bravi a chiudere l'incontro. Partita in mano della Castenovese, primo a fondo, sinistro di Angelotti, tra le braccia di Bruni. Passano un pari di minuti, occasione Castenovese, in massi al volo, distinto Bruni le spinge. E la volta di Venucci, girata non lontano dal montante. Alla mezz'ora, arriva il vantaggio della Castenovese, con il solito Salinardi. Secondo un tempo, con la Castenovese, sempre a cercare di chiudere l'incontro. Calcio da fermo di Angelotti, telefonato su Bruni. 25esimo, occasione per chiudere l'incontro, rigore in movimento, per Grazzini, pallone ciccato. Siamo nei minuti finali, 42esimo, angolo per il Subbiano, frittata. La serie batte, ribatti, il pallone rimane lì, e c'è il pareggio, c'è il pareggio del Subbiano. Grazie! Grazie! Grazie!